Vasto in fiamme per la seconda domenica consecutiva. Tre focolai accesi contemporaneamente che hanno preso di mira quattro zone della città, Villagio Silvio in particolare, dove una casa è andata a fuoco. Una situazione difficile da gestire, spiega il sindaco Francesco Menna. Purtroppo tre grandi focolai, uno a San Lorenzo in particolare sulla strada di via Defensa di Fontefico, uno invece relativo alla parte orientale di Sant'Antonio che va verso l'autostrada, quindi ha abbracciato via Lota e alcune palazzine di Sant'Antonio che danno su Vissamare. L'altro focolai invece importante è il Villaggio Siv. Dagni a persona, fortunatamente non ci sono state, dagni a cosa sì, in particolare un'abitazione del Villaggio Siv. A loro naturalmente la nostra solidarietà, la nostra vicinanza, momenti difficili perché tre focolai contemporaneamente hanno costretto la protezione civile, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, ma anche tanti cittadini volontari a rimboccarsi le macchine e ad operarsi. Fortunatamente non è successo niente di grave alle persone, ma sicuramente tantissima paura. Quante persone sono state costrette a lasciare le loro case? Per precauzione, per garanzia, per sicurezza abbiamo disposto che tutte le famiglie che si trovassero nelle vicinanze, anche a diversi metri dalle fiamme, quindi in una situazione di sicurezza, lasciassero le proprie abitazioni perché la nostra paura è che i fumi potessero creare problemi serri. In particolare abbiamo messo in sicurezza gli anziani, i disabili, le persone che vivono da sola a casa. È stato un momento anche particolare, di particolare paura, ma fortunatamente i vigili del fuoco e la protezione civile hanno fatto il grosso lavoro che ci ha consentito poi serenamente di riaffrontare la giornata. E adesso torneranno a casa? Sono già a casa, tranne una famiglia che ieri notte ha dormito in un albergo, la famiglia della casa interessata al villaggio Siv e questa mattina, già dalle prime ore, ci stiamo interessando al problema. Ma questa notte sono ripartiti alcuni focolai? Ci sono alcuni focolai che fanno parte dei fuochi madre, dei fuochi di ieri pomeriggio, ma sono stati poi controllati dai vigili del fuoco, dalla protezione civile. Tutt'ora sono sotto controllo dei vigili del fuoco e della protezione civile. Naturalmente questa grande collaborazione dei cittadini ci aiuta tanto, ci aiuta soprattutto a intervenire prontamente e a segnalare subito ai vigili del fuoco le problematiche relative agli incendi.